Ogni anno il 9 maggio l'Europa celebra la sua giornata dedicata alla pace e all'unità, una data che segna un momento fondamentale nella storia del continente e ricorda infatti l'anniversario della dichiarazione di Robert Schumann, allora ministro degli esteri francese. Fu lui a presentare l'audace proposta di collaborazione politica, il cui obiettivo principale era di garantire la pace e duratura tra le nazioni europee, aprendo la strada ad un futuro di cooperazione e solidarietà. A Nuoro per l'occasione il Centro Europeo di formazione con il supporto del Comune e della Commissione Europea ha organizzato una mattinata di lavori dedicata al tema. Ricordiamo la dichiarazione importante del ministro Robert Schumann della Francia che annunciava la creazione della prima essenza, la prima entità della Comunità Europea e poi Unione Europea ai giorni nostri. Lo facciamo insieme a 150 studenti in rappresentanza di tutti gli istituti superiori della città di Nuoro e degli ospiti che arrivano invece dall'Istituto Pischella di Bosa. Nel corso dei lavori sono stati presentati i risultati di due progetti europei a scuola di Open Coesione e Nuoro for Europe. L'incontro ha inoltre offerto l'opportunità di riflettere sull'importanza e sul significato dell'Unione Europea nel contesto attuale. In particolare è stato discusso il ruolo cruciale che le prossime elezioni europee dell'8 e del 9 giugno avranno nel determinare il futuro dell'Europa e il destino dei suoi cittadini. Lanciare la campagna di comunicazione per le elezioni dell'8 e del 9 giugno con lo slogan Usa il tuo voto. Parleremo cioè soprattutto a quei ragazzi che oggi sono presenti e che voteranno per la prima volta.